buonasera andrea buonasera delle spettatori di onda tg eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma questa sera voglio parlare di un argomento che mi è stato servito su un vassoio d'argento negli ultimi giorni ed è la malignità che delle persone mettono quando raccontano un fatto direi piuttosto quando fanno la spia perché raccontare un fatto ci può anche stare metterci della cattiveria condire il questo fatto con quel pizzico di di envasi come se posso successe cosa che cosa come per allarmare chi lo ascolta e secondo me quella è cattiveria bella e buona e dico questo perché pochi giorni fa alcuni amici miei che conosco da oltre 40 anni diciamo che siamo un gruppetto ristretto di amici che abbiamo una una conoscenza che si perde nella notte dei tempi e c'è questa amicizia di lunga data ogni tanto è nostra abitudine pur di scambiarci delle novità perché siccome odiamo odiamo farlo tramite i cellulari non ci piace mandarci messaggi o telefonarci a quella a quella tu chiamate chiama a quella ci piace vederci di persona guardarci negli occhi e allora ne approfittiamo per qualche caffè insieme qualche colazione o perché no qualche pizza qualche cenetta così alla buona ma per stare insieme lo scopo è proprio quello di scambiarci delle qualunque tipo di di novità di notizie parlare anche di sport parlare anche del tempo che l'estate non vuole arrivare e parlare della fauna selvale che sono di tante cose ma ci piace farlo stando così intorno a un tavolo l'ultima volta che questi amici hanno organizzato che poi sono delle cene delle pizze più che altro che si organizzano l'ultimo momento e che fa ma se giuriamo a vedere giuriamo a vedere si organizza ora per ora e la settimana scorsa io non ho potuto partecipare perché avevo degli impegni ma sono stato regolarmente chiamato e non ho dato la mia presenza se non capite questi amici miei stavano appunto mangiandosi la pizza qualcuno li ha visti e questo qualcuno forse perché non fa parte del giro forse perché c'ha dei rancori nei confronti di qualche componente di questo gruppo potrebbe essere anche contro di me non lo so fatta sta che la mattina seguente mi ha chiamato in un tono molto allarmistico stai attento agli amici che hai ieri sera stavano mangiando la pizza nel tale posto e ho sentito fare il tuo nome e quelli tramano le tue spalle tu ne le puti amici stai attento lascia perdere quella gente ma questo tizio che mi ha raccontato queste cose mai e poi mai poteva pensare che io ero stato invitato e non ho partecipato ma mai e poi mai poteva pensare che mentre lui mi ha chiamato io stavo proprio a piare il caffè con due di questi che erano stati la sera prima a mangiare la pizza e mi stavano raccontando qualche cosa di spiritoso che si era detto in quella serata quindi lo spione perché altro non è questo che mi chiama per mettermi in cattiva luce degli amici ai miei occhi degli amici sui quali ci metto la mano sul fuoco perché ci conosciamo ripeto da oltre 40 anni questo che mi chiama per dire stai attenti quelli sono andati a mangiare a tua insaputa che ne sai tu se sono andati a mia insaputa che ne sai tu io non ero con loro ma che ne sai se mi hanno chiamato se non mi hanno chiamato e poi propriamente due di loro mi stanno raccontando di questa cena questo mi chiama per cercare di mettere zizzania fra di noi allora caro signore che mi hai chiamato pensando di farmi un favore io ti dico che non ho apprezzato tutto insieme non ho apprezzato la tua chiamata ma soprattutto non ho apprezzato il modo con cui lo hai fatto tradotto il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi per coprirle tradotto il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi per coprirle e questo proverbio va proprio calza proprio a pennello come si dice in questa situazione perché perché il diavolo che rappresenta la malignità la cattiveria il male in ogni cosa il diavolo non fa mai le cose per il bene degli altri agisce sempre per fare del male ricorre spesso il diavolo nelle citazioni nei proverbi nelle favole nelle storie nel Vangelo il diavolo è presente in tante situazioni della nostra vita ma è sempre presente come simbolo di cattiveria come simbolo di persona di cosa che vuole mettere zizzania che vuole separare gli altri che vuole allontanare gli altri e quindi si dice che fa le pentole perché fa le pentole e non fa i coperchi quando uno sta in cucina che entra nella cucina e sente un misto di profumi di aromi un buon odorino che buon profumino che cosa bolle in pentola si fa questa domanda guarda la pentola sopra la stufa o sopra al fornello se la pentola ci sta nel coperchio uno sente un profumino ma non saprà mai cosa ci sta dentro quella pentola cos'è che profuma così ma se il coperchio non c'è uno basta che guarda e scopre quello che c'è scopre quello che c'è ecco perché il coperchio è importante e il diavolo il diavolo in questo proverbio famosissimo è proprio colui che fa le pentole quindi fa le cose utili perché la pentola è necessaria per cucinare è indispensabile però la fa in completa quindi fa un'opera in completa e fa in modo che il contenuto della pentola si viene a sapere quindi il diavolo che fa? in questo caso ha fatto sì che questo tizio si è trovato lì per pura combinazione in questa pizzeria dove ci stavano questi amici miei non so come ha fatto a sentire ciò che dicevano secondo me non ha sentito niente non ha sentito assolutamente niente perché nella confusione di una pizzeria non crede che sia andato ad avvicinare al tavolo per ascoltare in ogni caso se l'ha fatto vuol dire che ha origliato e non va bene manco questo ma la cosa che non va bene è che mi ha chiamato con l'intenzione di farmi litigare con i miei amici dicendomi i tuoi amici alle tue spalle sono andati a mangiare non ti hanno detto niente a tua insaputa ma che ne sai tu? ma che ne sai tu se era mia insaputa quando invece questi mi hanno chiamato e io non sono potuto andare perché la volta ci manca uno siamo un gruppetto piccolo, limitato a volte siamo tutti quanti ma a volte ci mancano quelli, ci mancano quell'altro che c'è un problema, che andai in palestra, che andai in piscina che chiedeva fare altre cose e quindi all'assente o agli assenti poi è nostra buona abitudine dire così la curiosità di cui si è parlato non mettete passo al generale prendendo spunto da questo tizio che quindi mi ha riferito la cosa non per farmi il favore perché questo non è non lo reputo neanche una confidenza non è una confidenza questa che se è una carta vecchia bella e buona per farmi la decà con questi amici miei quarantennali e non queste cose non le gradisco non le apprezzo e non le condivido quindi caro signore se non sto fatta una cazzata del genere non la fare più perché io questi atteggiamenti non li condivido non ho bisogno di uno che mi chiama e mi dice stai attento qua stai attento là perché alle tue spalle tramano ma che stiamo veramente all'epoca della congiura di Giulio Cesare di Bruto delle congiure di Palazzo che si facevano una volta che stiamo veramente a quell'epoca là no poi anche perché non credo di avere una vita così importante di fare parte di questi giochi così importanti delle congiure sono una persona qualunque sono una persona semplice e tutti gli amici miei indipendentemente dal ruolo che rivestono nella società sono fondamentalmente nel loro animo persone semplici quindi non è nostra l'abitudine vedere la cattiveria in quello che si fa per cui invito i miei telespettatori perché io voglio bene i miei telespettatori vi voglio bene cari telespettatori io vi voglio bene voi mi vedete io non vi vedo perché molta gente ci vediamo martedì voi mi vedete a me ma io a voi non vi vedo vi immagino al di là dello schermo non so quanti siete vi immagino che ci state però voi a me ma siete a guardare in questo momento cari telespettatori il mondo è già pieno di odio è già pieno di cattiveri è già pieno di malignità per tante cose i sospetti e gli indichi è quello quello che si saurisce con tutta porta e gocce è quello che la bocca di quella non alimentiamo ulteriormente le liti all'interno delle famiglie all'interno del gruppo di amici nelle parenteli non alimentiamo assolutamente il fatto di andare a delle persone parlare male del proprio familiare con i propri amici evitiamole queste cose non andiamo anzi cerchiamo sempre di mettere la pace nelle situazioni cerchiamo di raccontare le cose o di non raccontarle proprio ma se proprio non possiamo riuscire a trattenere perché la parla a tutti i costi raccontiamo le cose a fin di bene in modo da spegnere gli ingegni noi nemmo essere vigili del fuoco noi nemmo essere bombieri nemmo smorzare la situazione non andiamo a finire di amplificare assolutamente quindi quando vedete una situazione una cosa subito mi ci darò fuori quello attivo facetevi i cavoli vostri che cosa fai i cavoli se campi cient'anni forse pure quando di chi facciamoci i cavoli nostri che stiamo buoni tutti qua che la parola non detta salva tante situazioni la parola detta è detta nel modo sbagliato crea le guerre quindi bocca chiusa non mena guerra questo è un altro proverbio detto all'interno di questo proverbio bocca chiusa non mena guerra quando uno sta con la bocca chiusa se fai i cavoli se state tranquilli ci fanno a mettere la pace ma ne mette manca la guerra così questo è un mio pensiero speriamo che questa persona stia guardando l'aforisma o lo vedrà nei prossimi giorni su youtube e almeno riflette e capisce che io delle sue spiate non ne ho bisogno delle sue e manca delle quelle degli altri arrivederci buonasera a Grazie a tutti.